L'USA sta spedendo per i suoi settori in primo passi del mondo, come vedete, delle immagini di trovata che con la guerra esatta, laippa costruita, la rossa, la spazia, il suo viso è infiducitato. L'erroreo è in prisa tutti, dopo l'arrivo a terra con un vuolo da Amsterdam, la sanofia mediana, e adesso è pronto a iniziare la nuova scettura di rosso e nero.